E andiamo cazzo, e andiamo, e andiamo, vittoria d'oro, vittoria d'oro, vittoria d'oro, cavolo, vittoria d'oro, e andiamo, e andiamo, mamma mia, c'avevo un'ansia per questa, per questa sera e poi mi rodeva anche il culo perché al del primo tempo li abbiamo presi completamente appallonati, allora andiamo, John Borno, John Borno, andiamo con ordine, John Borno, iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi piace, dai raga, fatemi questo regalo di Natale, iscrivetevi e lasciate mi piace, e seguitevi anche sul senato di Natale, si col calcio 2.0, e andiamo, e andiamo, mamma mia che bello, mamma mia che bello, mamma mia che bello, allora, sono contento perché, uno perché abbiamo vinto, due perché se mangiamo il panettone e il pandoro voglio, no, perché sono tollerante al latte, se c'è proprio quello più intollerante me lo magno, se no vado a caga e spruzzo, però direi proprio di no, ma al di là di questo ragazzi miei, ragazzi miei, oh oh oh, godo, 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 Allora, andiamo avanti con il gol di Veretupappà, e turututututu, e taradatatatai, Veretupappà, e turututututu, e taradatatatai, Veretupappà, però nel primo tempo, diciamocelo, 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 ce lo, ce lo, li abbiamo presi a pallonate, se non c'è fosse stato Cragno, che ha parato pure le smadonne mie da casa mia, probabilmente l'avremmo già chiuso nel primo tempo, però Cragno c'era, il portiere fa parte della squadra, è stipendiato, Il portiere dalla squadra, e quindi non c'è niente di strano se il portiere para, cioè il portiere è un portiere, quindi come è giusto che sia, il portiere para, cioè io penso che non si stia dicendo niente di clamoroso, però devo dire, insomma, l'occasione su Cristante, quell'altra su Pedro, un'altra che adesso non ricordo, su punizione, una stoccata di testa, veramente ha preso tutto, veramente ha preso di tutto, E poi succede così, succede sempre così per la Roma, nel secondo tempo abbiamo questo blackout, 5 minuti di blackout, raga, potevamo prendere 12 in 5 minuti di blackout, abbiamo perso 42 palloni, Alla fine dicevo Pedro, il gol ce l'ha fatto, non so basta di 5 minuti, abbiamo perso 22 palloni in 5 minuti, una cosa pazzesca, prendiamo il pallone, ripartivamo, E perdevamo subito, prendevamo, prendevamo, se giravamo l'avevamo perso, veramente pazzesco, e sul gol di Joe Pedro, che tra l'altro ormai è proprio bomber, che mette la firma ogni settimana, No ogni settimana no, però insomma, diciamo, in fase realizzativa è cresciuto tanto Joe Pedro negli ultimi anni, ne approfitta, è un attaccante che aspetta l'errore, opportunista, E quindi ce l'ha buttato dentro, tra l'altro anche là la difesa della Roma, messa malissimo, messa malissimo, e io è lì che godo, perché lì che godo? Perché lì una Roma degli altri anni si sarebbe ammollita e l'avremmo persa, oppure l'avremmo pareggiata uno a uno, fatto sta che non l'avremmo più sbloccata, non l'avremmo più ripresa, E invece la Roma non demorde e è Dingeco, la butta dentro, lancio bellissimo di Ibagnez per Karsdorp, Karsdorp mette questo pallone al centro forte, ci arriva Dingeco che la impatta 2 a 1 e lì la partita prende una certa sostanza, una certa direzione, una direzione che poi porterà a un altro gol, quello di Mancini, insomma in area di rigore, sappiamo che Mancini di testa ci sa fare, sappiamo che Mancini quando c'ha l'occasione il pallone lo butta dentro, ragazzi sono veramente felice, ma perché a parte che, a parte che, ieri c'era stato un match molto importante, Juventus-Fiorentino, e quindi la Juventus perde punti per la corsa alla Champions, so che la Juventus sostanzialmente non fa la corsa alla Champions, fa la corsa allo scudetto, però in questo momento gli sono sopra e quindi è una squadra che mi sta dietro per la lotta alla Champions, poi stasera c'era il Napoli, ora ne parliamo, c'era Mila-Lazio, ora ne parliamo, ha giocato l'Inter e aveva vinto, bisogna parlare di un sacco di partite, ora ne parliamo di tu, parliamo veramente di qualunque cosa, in questo momento l'Atalanta, parliamo anche dell'Atalanta, e raga oggi per la Roma la vittoria era d'obbligo, dovevamo approfittarne e sono veramente contento che ne abbiamo approfittato, sono veramente contento, anche perché non mi aspettavo mai di vedere questa Roma a Natale, di vedere questo risultato a Natale. Passiamo adesso all'Atalanta, l'Atalanta pareggia, sorpresa, grandissima sorpresa, 2-2 contro il Bologna, è un Atalanta dalla quale non mi sarei mai aspettato pareggiarsi con il Bologna, ma non al risultato non acquisito, nel senso sullo 0-0 ti aspetti di tutto, può succedere veramente di tutto, anche perché questa Atalanta non è l'Atalanta dello scorso anno, ecco diciamo che le tre squadre più in forma dello scorso anno, Juve, Atalanta e Lazio stanno andando lentamente rispetto alle attese, e quindi l'Atalanta va un po' sulla falsarica della Juventus, e anche oggi non è che mi aspettassi grandi cose, mi aspettavo vincesse, però non mi aspettavo grandi cose, stavo per vomitare tutto. Però dopo i due gol di Muriel, arrivati veramente in un momento, proprio in un fazzoletto, ho detto adesso l'Atalanta l'ha indirizzata, non mi aspettavo mai che all'ultimo momento disponibile da corner, pazzo la riprendesse, per il Bologna questo è un punto d'oro, è un punto salvezza, è un punto che fa crescere, ma dall'altra parte credo che l'Atalanta si possa solo che mangiare le mani, perché tu non puoi buttare questi punti Champions, cioè i tre punti che oggi fa la Roma grazie al pareggio dell'Atalanta contro il Bologna sono punti meno, cioè la Roma fa il doppio dei punti oggi, e godo sinceramente, godo il Milan, il Milan, il Milan all'ultima azione con Teo Hernandez, vince la partita, la Lazio aveva recuperato il Milan, l'aveva riaperta, l'aveva ripresa, era andata sul 2-2, quando hanno fatto 2-2 ho detto no vabbè, ora vedrai che la partita si blocca così, il Milan non riuscirà a vincerla, non gli andrà bene stavolta, e invece Teo Hernandez, rega quando c'è un giocatore forte, quando c'è un giocatore forte ce l'hai, ce l'hai, cioè quanti giocatori forti ce l'hai, ce l'hai, e il Milan, a parte che quest'anno gli va tutto bene, veramente gli va tutto bene, ma non è un difetto, è un pregio, ci sta, è giusto che sia così, cioè penso veramente, invece la Lazio dall'altra parte, se gli casca il pene a terra, fa un rimbalzo e gli rientra dentro il deretano, questo succede alla Lazio, non che da romanista mi dispiaccia, però il Milan dimostra ancora di avere la tigna, il Milan dimostra ancora di essere in gioco, perché l'Inter avrà vinto di carattere, perché l'Inter avrà vinto dando una manifestazione di superiorità nei confronti di altre squadre che stanno lottando per un posto in alto, però rega stasera il Milan ha battuto la Lazio, stasera il Milan ha vinto il big match, uno dei big match di giornata, e stasera il Milan ha vinto all'ultima azione 3-2 contro la Lazio, la vittoria, io quello che dicevo ieri era questo, dicevo, il Milan sostanzialmente non vince mai al risultato non acquisito, non è una squadra che dici vince 3-0 facile, il Milan se le gioca tutte, le rischia tutte, che sia con la Lazio o la Juve, che sia con lo Spezia, il Milan la rischia, ne è che io penso i tifosi del Milan sia d'accordo con me, ne è che quando c'è il Milan Spezia un tifoso del Milan dice vabbè, oggi scendiamo un campo e vincemo facile, no, c'è la strizza comunque, te la giochi te la giochi con lo Spezia, te la giochi con la Juve, te la giochi con la Lazio, però le partite le vinci e il Milan ne sta vincendo le partite e questa senza Ibra vale doppio, vale doppio e concludiamo con il Napoli, perché il Napoli si fa bloccare 1-1 contro il Torino dal Torino che poi si fa bloccare, quasi il Torino che si fa bloccare dal Napoli per il risultato finale perché il Napoli l'aria ciuffa nel finale, deve ringraziare Insigne che la pareggia il solito Insigne, il preziosissimo Insigne ragazzi, il Napoli deve veramente ringraziare Insigne ma soprattutto, perché poi io ovviamente vi parlo vagamente, stasera ho visto la Roma e poi cambiamo canale per cercare poi di parlarvene rapidamente in questo video vi parlo di un Napoli che alla fine butta due punti ma non è che butta due punti, non sto a parlare della partita, sto a parlare proprio di come erano le premesse cioè il Torino, ragazzi miei, che non si reggeva in piedi, tra un po' stava a fare il colpaccio e per il Napoli questi sono ulteriori punti persi, io dopo che ho visto ieri il 3-0 a Torino annullato ho detto stasera il Napoli entrerà in campo e gli spaccherà il culo, sarà aggasatissimo invece niente, e noi siamo terzi! ma ce ne andiamo conto che siamo terzi? è vero che il primo posto gli sta 7 punti e il secondo 6, sono tantissimi però siamo terzi ragazzi, sopra la Juve, sopra il Napoli, sopra la Lazio sopra il, me ne manca qualcuno, l'Atalanta oh, pazzesco, pazzesco, non me l'aspettavo mai è vero che il Juve e il Napoli non c'è una partita però sono proprio contento, Natale da terzo in classifica che bello! fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando adesso noi ce ne andiamo tutti a parlare su Calcio Totale che fa anche rima, viva il Natale in diretta per queste partite vi ringrazio, ha visto il serio, tantissimi mi piace vuosce dall'Allene come sempre forza Roma! dai, andatevi, andatemi qualcosa di tutto della Roma qui forza Roma, forza Roma forza Roma, forza Roma la 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 la